Un saluto a tutti gli amici di Estama Shop, in questo breve video vi presenteremo un ruoto di buste da CD da 100. Ogni confezione di questa, eccola, vedete, è sigillata ermeticamente, sono 100 bustine con aletta, bustine trasparente che servono in pratica per mettere i CD all'interno, per tenerli custoditi in un modo più sicuro, per tenerli custoditi in un modo normale, come dovrebbero essere custoditi tutti i dischetti. Ha una aletta piegrimole che vi dà la possibilità di andare, di essere sicuri, magari anche capovolgendo il blister, questo qui in plastica, che il CD non possa uscire dalla confezione. La plastica è dura, è molto resistente, il ruoto, ripetiamo, è da 100 buste, è un prodotto molto semplice, giusto in pratica ermeticamente, su tre lati, in solo lato aperto, con la letta. Bene, io con questo concuso di video ringrazio gli amici di Estama Shop e vi do appuntamento, alla prossima. Grazie per la visione!